Dopo 20 giorni di lavoro e alla luce della tua esperienza, c'è qualcosa di questo gruppo che ti riporta alla mente aspetti propri dei gruppi vincenti, tanti che tu hai guidato in passato e qual è nella praticità il prossimo step di crescita che tu, o meglio voi, tu e il tuo staff avete indicato? Questo è un gruppo diverso da tutti quelli che ho allenato, è difficile compararlo con altri gruppi, ho trovato gruppi diversi, con molta esperienza, con molta qualità, gruppi giovani, un gruppo giovane così fresco da un punto di vista fisico non l'ho mai trovato, Perciò, diciamo gli anni passati, l'anno passato, se doveva fare gli allenamenti col Misurino, qui gli allenamenti si fanno come vogliamo noi, usando l'intensità giusta e credo che così si cresce molto velocemente. Canale 21 Il prossimo step è vincere le partite